buongiorno david tv news oggi 10 maggio è san cataldo e ricorre il world lupus day la giornata mondiale dedicata al lupus rimatoso sistemico diversi fattori possono scatterare un'attivazione incontrollata del sistema immunitario che sfocia in un'infiammazione dei tessuti dell'organismo la patologia può interessare qualsiasi organo e apparato generando sintomi e quadri clinici differenti per ogni singolo paziente i sintomi più comuni sono spesso disturbi come stanchezza malessere generale febbre tra i sintomi specifici le manifestazioni più comuni sono quelle cutanee articolari una giornata di sensibilizzazione verso questa malattia cronica autoimmune non contagiosa né infettiva caratterizzata da manifestazioni rimatose cutanee e delle mucose sensibilità alla luce del sole e coinvolgimento sistemico di quasi tutti gli organi e apparati per cui i reni le articolazioni e sistema nervoso centrale grazie a tutti grazie a tutti